Maura Striano, che è il nuovo assessore all'istruzione alla famiglia, in questo momento il primo pensiero va a Mia Filippone e allo straordinario lavoro che ha fatto, alla grande perdita che abbiamo avuto, la nomina di Maura che ha lavorato con Mia, ovviamente portando poi le sue grandissime competenze, le sue grandi esperienze di donna, sia della scuola che dell'università, che ha lavorato fortemente sui temi dell'inclusione scolastica, della perdita del lavoro sulle marginalità, tutto questo grande sforzo, tutta questa eredità di Mia, ovviamente, è un po' sulle spalle di Maura. Prendo questo impegno con veramente un grande senso di responsabilità, proprio in continuità con il lavoro che aveva fatto Mia, con la quale ho collaborato fino all'ultimo, quindi stavamo realizzando una serie di progetti, anche proprio un manifesto dell'educazione per il Comune di Napoli e quindi prendo la sua eredità. Io, come diceva il sindaco, vengo dal mondo della scuola, quindi ho fatto tantissime cose come insegnante, sono stata coordinatrice psicopedagogica, insegnante di sostegno, ho insegnato nel carcere femminile di Pozzuoli, quindi conosco le varie sfaccettature del mondo della scuola e poi mi occupo di educazione perché è il mio mestiere, quindi sono una pedagogista. In particolare sono una pedagogista sociale, quindi mi occupo dei temi della marginalità, dell'inclusione, della devianza e darò il mio contributo a realizzare un'educazione di qualità perché i bambini, i ragazzi e le famiglie di Napoli se lo meritano. Il mio primo passo sarà sicuramente quello di rinsaldare il patto per Napoli, il patto educativo per Napoli e quindi cercare poi di consolidare questo patto con delle azioni concrete, con delle iniziative concrete e farò una visita a tutte le scuole di Napoli a partire proprio dai servizi anche educativi per l'infanzia che sono una grande risorsa per il nostro territorio che deve essere valorizzata e quindi appunto su questo penso di puntare anche molto perché i servizi educativi sono servizi non di welfare ma sono servizi che accompagnano le famiglie proprio dal punto di vista del progetto educativo.